Ciao a tutti, qui Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball Legends Oggi ci troviamo qui a fare una brevissima guida su Dragon Ball Legends Praticamente vi spiegherò come funziona Dragon Ball Legends, come è il gioco Molto semplice, non è come Dokkan che bisogna sapere molte cose, è molto più semplice rispetto a Dokkan Quindi sarà molto breve, naturalmente non è che vi dico pure tutti gli equipaggiamenti, quale mettere, come boostare al massimo Quali sono cose oltre, o troppo oltre Vi dico giuste le basi per iniziare il gioco e come procedere ad andare avanti Allora, questa è la schermata home, dove vediamo in basso a sinistra story, al centro in basso pvp e a destra mission In mezzo ci sono daily mission, ma qua non vi preoccupate Poi c'è il vostro personaggio che avete davanti a tutto L'alta a sinistra sta il vostro livello del personaggio, sopra l'energia che si ricarica, se non sbaglio, ogni 20 minuti o 15, non ricordo Il cronocrist è in alta destra per prendere i personaggi Qua dove ho cliccato stanno i messaggi, come vedete, sarebbe le news E a destra stanno i gift, che ogni tanto quando hanno manutenzione danno cronocristal Però vediamo il bottone principale, beh in alta a sinistra scorrono gli eventi e vabbè In basso a destra c'è il menu, dove c'è il menu? C'è tutto quello che c'è nella home più altra cosa Allora ci sono news, quello che ho fatto dai friend, ci sono i vostri amici Status, vi fa vedere a che state, i vostri, cioè come state messi Poi, item, cioè i vari item che avete avuto durante il gioco Present Sarebbe i gift Vedete? Questi sono quelli che ho ricevuto io tempo orsono oramai Poi ci sta ote, vabbè, le varie opzioni ci sono E vabbè Poi c'è adventure Adventure, come vedete, se faccio start adventure Io non ho niente Sono dei lavori, possiamo dire job o quali chiamano Sono dei lavori Che praticamente Quando farete pvp oppure determinate missioni della storia Vi daranno delle carte, possiamo dire Che voi andate nell'adventure Fate start adventure E decidete il personaggio da mettere Vi da item, orb e varie cose vi darà Poi ci sta customize Per personalizzare il vostro personaggio principale Vi potete mettere, tipo, che ne so La battlesuit di Vegeta L'ermet G di Goku Però io ho quello di default Poi c'è la storia La storia, naturalmente, ci sono gli eventi Di vari eventi ci sono ogni tot che mettono nuovi E poi ci sta la storia La storia che si divide in normal e in hard Come anche gli eventi Vedete, può essere normal e hard Però io l'ho finita in normal e in hard Non lo voglio fare, vabbè Poi c'è train Train per allenare il vostro personaggio Come vedete, tipo, io uso 10 di questi Come vedete, però, non posso allenare i personaggi Dopo 8 livelli Infatti dovete usare gli appositi training item Tipo, io adesso voglio allenare questo Goku Sparking Lo porto al massimo, così Ok, come vedete, però, se io voressi utilizzare questo qua del latte Posso allenare soltanto quelli là dal livello 600 in poi Cioè, dal livello 600 che avete solo bustato Infatti posso allenare, tipo, che ne so, Trunks Sparking Che porterò al livello massimo Però, come vedete, non posso allenare quelli precedenti Quindi ogni training item può allenare determinati personaggi E fino a qua ci siamo Poi le mission, vabbè, queste sono le mission giornaliere Se si decide a caricare Niente Ok, le daily, le zeta mission Quelle là che ci stanno sempre E questi sono quelli degli eventi Come vedete, adesso ci sta le 20 18, vabbè Poi, PvP PvP dove si suddivide in Casual Match E Rating Match Vabbè, questa io ancora non ho fatto nemmeno Il login della scorsa stagione Come vedete, adesso io l'ho fatto Comunque Cioè, Casual Match e Rating Match Casual Match praticamente sarebbe la local Cioè, sarebbe una battaglia contro gente a casa E Rating Match V-Match rispetto al vostro grado Quindi più salite di livello E più naturalmente troverete gente forte Poi c'è lo shop Vabbè, il solito shop Sempre il caricamento infinito Dove qua sta Exchange Shop C'è uno shop Possibile di free to play Che si può comprare la roba qua Tipo io adesso mi prendo Due ticket Giusto per Ok E qua potete prendere i personaggi Ma sono inutili Tanto Conservate Quante tipo danno queste cose I ticket O queste cose qua Poi summon Dove naturalmente Mi entrerete più per pullare Io come vedete E poi andiamo sul charai Characters Ci sono i vari personaggi Qui vi dico Molto brevemente cos'è Soul Boost Sarebbe per potenziare il personaggio A livello 1500 Equipment Upgrade Per potenziare gli equipaggiamenti Character List Vedete i personaggi che vedete E gli equipaggiamenti sono Vedete quelli che avete Molto veloce Niente di straordinario E adesso andiamo a fare Una partita molto veloce Ma molto Tipo io sto farmando Questo qua di No andrei 19 euro Quindi posso fare C18 Andiamo a fare C18 L'evento Perché io lo devo fare Ma vabbè Facciamo tipo questi valori Vi faccio vedere il gioco Come funziona Per chi fosse nuovo Ancora non l'ha vista E' molto semplice Rispetto a Doc Non è che tipo Dovete crearvi un team E' vero Ogni personaggio Ha una propria Z ability Una passiva Quindi dovete collegare Pure i personaggi Rispetto a quelli Ma quello è molto più Complicato da spiegarvi E questa è giusto Un'introduzione al gioco Come vedete in alto a destra Ci sono i colori a vantaggio Infatti il rosso E' vantaggio sul giallo Il giallo sul viola Il viola sul verde E il verde sul blu Mentre invece Ci sono altri colori Che come il bianco Che è favorito Contro il nero E il nero contro tutti Quindi possiamo dire Dedurre Che il bianco E' quello più forte Contro tutti Possiamo dire Che non ha né debolezze Però non ha nemmeno Vantaggi contro Personaggi E quindi Bisogna sempre vedere Tipo adesso Siamo contro un giallo Quindi consiglierei Di mettere Un rosso Vabbè Vi metto Dima a casa Vabbè Il livello è 86 Contro Non è questo grandissimo livello Intanto Vi dico che Ci sono le mosse Di attacco fisico Vicino Le mosse special Cioè quelle che colpisce da lontano E le mosse d'auro Possiamo dire E le mosse speciali Aspettiamo adesso Ho messo la modalità In alto a sinistra Sta pausa Come vedete Potete mettere in pausa il gioco Tornare in gioco E mettere auto Out of la significa Che non è in modalità Automatica Mentre sta auto on Il gioco va davanti Da solo Quanti poi gli eventi Sono facili Mettete auto E fa due Pure se vi scorciate Come vedete Ma il nemico ci sta attaccando Ci vuole molto bene Ci sono due personaggi Nei lati Possiamo switchare E cambiare personaggio Però dobbiamo aspettare Dieci secondi Tipo Poi possiamo attivare Un'abilità Come vedete Sul personaggio In basso a sinistra Risplende Una cosa bianca Se la attiviamo Vedete Attivata l'abilità Poi se Mentre ci stanno attaccando Schiviamo Come vedete Facciamo tipo di uno scattino Guardate Ora ci attaccherà Sicuro Attaccaci dai Vedete Faccio uno scattino E mi avvicino Poi se premete Potete dare i cazzotti E io L'ho shittato Naturalmente Come vedete Il gioco si basa su questo Sullo schivare Fare danni fisici Cioè Con i cazzotti Ora vi faccio vedere Vi andrò a fare Un event Pochettino più difficile Cioè Il livello quello dopo Intanto qui Crono crystal La manetta Vabbè Vi faccio vedere Molto Brevemente Come funziona Cioè Il combattimento Come avete visto È molto semplice Però naturalmente Se avete I personaggi Boostati Rispetto a un altro Eh Potete pure non giocare Tanto lui perderà Tipo io Che sono Cioè personaggi Al 1500 Contro questo Il mod 152 Poverino Fa una fine di merda Quindi Previsco mettere Un colore opposto Per provare A fare resistere Un pochettino di più Perciò Basta che voi Combinate Attacchi speciali Attacchi fisici Avete fatto Poi ogni tanto Ci sono dei personaggi Che hanno Delle ulti speciali Che si attivano Con l'abilità In basso a sinistra Che si attiva caricandosi Come vedete Questa è Quella special Vede lanciate Le palline Poi ci sta Questa cosa verde Che sarebbe La sua abilità E ogni personaggio Ha un'abilità Diversa E quella di Tarles E quella di Curarsi Come vedete Abbiamo perso vita In basso La nostra vita Premiamo E ci curiamo la vita E ci bustiamo Pure le statistiche Poi come vedete Tutto a destra Ci sono sette sfere Del drago E ogni tanto Sui nostri colpi Che possiamo fare Ci sono delle sfere Se facciamo Questi colpi Se 18 Si decide Di finirla Ok Se clicchiamo Tipo questo Come vedete Ci ha dato Una sfera Se riusciamo A riempire Tutte le sfere Potremmo fare Il rising crash Ovvero Noi Io Contro il bot Oppure un Giocatore pvp Praticamente Dovremmo Decidere Un tasto da premere Cioè Uno di queste Skill in basso Se il nemico Riesce a indominare Quello che voi Avete premuto Il rising crash Si annulla Se no Voi Se avrete Cliccato Un pulsante Diverso Da quello nemico Avrete vinto E quindi Riuscite a fare Il rising crash Ed è L'attacco Possiamo dire Più forte del gioco Quindi mi raccomando Usatelo bene Perché si può schivare Quindi state attenti Però naturalmente Se il loro tipo Usano la skill Dei pugni Verso di voi O delle palline Non vi fanno niente Il rising crash Fa lo stesso Soltanto se schivano Quindi Questo era Il breve video Di Legends Spero che Vi sia stato utile Mi raccomando Scrivete nei commenti Qualcosa che Non vi è stato chiaro Se voleste sapere Qualche informazione in più E Iscrivetevi al canale Lasciate un like E noi ci vediamo Ad un prossimo video